Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube. Il mondo delle criptovalute, una guida completa. Le criptovalute sono un argomento di grande interesse negli ultimi anni, con una crescente adozione e interesse da parte di investitori, aziende e consumatori di tutto il mondo. Ma cosa sono esattamente le criptovalute e come funzionano? In questo articolo, esploreremo le basi delle criptovalute, i loro utilizzi, e il loro impatto sul panorama finanziario globale. Cos'è una criptovaluta? Una criptovaluta è una forma di valuta digitale che utilizza la criptografia per garantire la sicurezza delle transazioni e per controllare la creazione di nuove unità. A differenza delle valute tradizionali emesse da governi centrali, come il dollaro o l'euro, le criptovalute sono decentralizzate e basate su una tecnologia chiamata blockchain. Blockchain, il cuore delle criptovalute. La blockchain è un registro digitale pubblico che registra tutte le transazioni effettuate con una determinata criptovaluta. Questa tecnologia è la chiave per garantire la trasparenza e la sicurezza delle criptovalute. Ogni blocco di transazioni è collegato in modo criptografico al blocco precedente, creando una catena continua di dati. Questo rende estremamente difficile la modifica delle transazioni esistenti, rendendo la blockchain un registro affidabile. Le principali criptovalute. Mentre esistono migliaia di criptovalute sul mercato, alcune sono più conosciute e ampiamente utilizzate di altre. Ecco alcune delle principali criptovalute. 1. Bitcoin BTC. Il Bitcoin è stato la prima criptovaluta mai creata ed è ancora la più conosciuta e utilizzata. È stato creato da una persona o un gruppo di persone sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel 2009. Il Bitcoin è utilizzato principalmente come forma di investimento e come mezzo di scambio. 2. Ethereum e TH. Ethereum è una piattaforma blockchain che consente agli sviluppatori di creare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate di apps. La sua criptovaluta nativa è chiamata Ether. 3. Ripple XRP. Ripple è una piattaforma di pagamento digitale che mira a semplificare i trasferimenti di denaro internazionali. XRP è la sua criptovaluta utilizzata per facilitare queste transazioni. 4. Litecoin LTC. Litecoin è una criptovaluta simile al Bitcoin ma con tempi di conferma delle transazioni più veloci e un diverso algoritmo di mining. 5. Bitcoin Cash BCH. Bitcoin Cash è una biforcazione fork del Bitcoin, creata per risolvere i problemi legati alla scalabilità. È spesso utilizzato per transazioni quotidiane. Utilizzi delle criptovalute. Le criptovalute hanno una vasta gamma di utilizzi. 1. Investimento. Molte persone vedono le criptovalute come un investimento speculativo, sperando che il loro valore aumenti nel tempo. 2. Trasferimenti di denaro internazionali. Le criptovalute come Ripple possono semplificare i trasferimenti di denaro transfrontalieri, riducendo i costi e i tempi di elaborazione. 3. Contratti intelligenti. Ethereum consente lo sviluppo di contratti intelligenti, che sono protocolli autonomi che eseguono automaticamente accordi senza bisogno di intermediari. 4. Pagamenti online. Alcuni negozi e servizi online accettano criptovalute come metodo di pagamento. 5. Privacy. Alcune criptovalute, come Monero e Zesh, offrono un maggiore livello di privacy anonimato nelle transazioni. I rischi delle criptovalute. Mentre le criptovalute offrono molte opportunità, ci sono anche rischi da considerare. 1. Volatilità. I prezzi delle criptovalute possono essere molto volatili, il che significa che gli investitori possono perdere o guadagnare somme considerevoli di denaro in breve tempo. 2. Regolamentazione. Le criptovalute sono regolamentate in modo diverso in tutto il mondo, e i cambiamenti nelle normative possono influenzare. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube. Grazie per la santé! Grazie.